Luminari accese, il maestoso carro trionfale e la torre dell'orologio a fare da scenografia a Piazza Cavoura Terlizzi, stracolma di gente per applaudire i cugini di campagna. Con i super ospiti della terza delle quattro serate dedicate alla musica, si va verso la chiusura dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Sovereto. Il fitto cartellone di appuntamenti è stato pensato e organizzato dal comitato Festa Maggiore 2024. Una grandissima edizione, tantissima soddisfazione, tantissima gente. Terlizzi finalmente sta uscendo fuori con questa grande festa. La Festa Maggiore ha visto la tripod band dei Poo, la tripod band dei Pink Floyd. E poi in chiusura una fantastico nostalgia 90 per far ballare tutta la piazza, tutto Terlizzi e tutti coloro i quali verranno da fuori. Sul palco della città dei fiori i più grandi successi del gruppo in uno spettacolo che ha fatto rivivere oltre 40 anni di musica italiana. Abbiamo riscontrato tantissime richieste, tanta attenzione, tanta aspettativa da parte dei turisti che sono rimasti a Terlizzi dopo la sfera del caro trionfale e poi dei tanti terlizesi. Stasera grande musica, in questo momento non soltanto abbiamo accolto i cugini di Campania, persone splendide, davvero molto alla mano. E poi ci stiamo preparando per il concerto, sono davvero simpaticissimi e sono anche cordiali con tutti, per noi è un momento bello per la città perché condividiamo con tutti quanti questo momento di allegria, di sana allegria e di bella musica. Oh, anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Oh, anima mia, anima mia, anima mia, anima mia, occhi... Oh, anima mia, anima mia...